Oh, 40% ho saputo di farlo Ma perchè non lo sapeva di parte col 40%? Sicuro? Sì Mi ricordo che la tua tua squadra era più 20 Che era? Più 20, non più 40 Ma io mi sempre 40 mi ricordo Sicuro? Magari mi ripartono a te Fa un culo o merda Devi morire Merda Non ne andiamo più Io ce n'ho tre Ti interessa? Mi controlli B per favore Fatto Minchia mi hanno intaccato Momentaneamente sono sul cielo Io vado su B adesso Stato in pericolo Madonna, mi sa che stanotte qua Oh come questa è questa? Mi sa di sì Mi sa che stanotte Mi tremerà il culo No Perché ho sentito una piccola abisaglia E se ho i doppi vetri Nonostante io ho i doppi vetri Se si senta quello che succede fuori Quindi non avevo un problema Se vuoi mano Io ne ho tre Io ho piede Ok questa è la? Seconda Seconda In base alle reliquie che tu hai Ci sono delle probabilità Più o meno Di trovare dei pezzi No? Si Mettendo tot energia Si C'è la probabilità Sempre Bassa Perché gli ultimi pezzi Sono quelli più rari Di avere una remota possibilità Di avere la Di droppare praticamente quei pezzi rari Non è sicuro però Gli puoi incrementare l'energia Facendo prova Eeeh Poi te lo spiego Sacrificando qualcosa credo Si si Non mi ricordo in questo momento Il nome specifico Però lo puoi fare Minchia quanto pedero Ah si Ti fanno il danno da tossina Ma sai? Oh minchia manco col tonco Riesco ad abbattervi sti pezzi di merda Sai che andrebbe bene qua? Sari? Trinity andrebbe bene Trinity Ah Trinity come support Esatto Che dà vita e energia a katana Qua serve Vita e energia Serve come il pane Come il pan carré Comunque Senta a me Infatti la Comincio a usare la broken La broken war Quando finirò le armi prime Che praticamente Cioè la war praticamente è l'arma corpo a corpo più forte del gioco Perché? La broken war No la broken La war La spada dello stalker Chi sei ce l'ho? No non ce l'hai Dove ho comprare la La broken sword? No 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 la devi comprare La war si droppa soltanto ammazzando lo stalker Se riesce a droppartela Perché non è detto Perché non è detto Perché non è detto che lo stalker riesca a droppartela O da si che tipo Droppare pure la hate Ma è nato G1 questa Direttore Si La hate che sarebbe tipo la falce mi pare Ti ricordi la falce dello stalker? Io c'ho l'arco mi sa dello stalker Eh Però l'arma corpo a corpo più forte di tutto warframe E' la war dello stalker Non quella che abbiamo noi Che abbiamo preso con la Con la quest Il secondo sogno Che ci da la broken war La war proprio sana sana Che da quando abbiamo fatto la quest Il nome del Dello stalker è cambiato Cioè ha cambiato pure l'aspetto Non so se ci hai fatto caso No Eh Che ora da 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 stalker si chiama shadow stalker Tipo una cosa del genere Tipo Tipo Stalker ombra Ma questo per quelli che hanno finito Il secondo sogno Tipo Fabrizio ancora c'ha Lo stalker normale Aspetta un attimo che siamo in serie In guai serie A C Nicchia Aspetta un attimo Facci Salute Quanta sti pezzi di merda Di livello 42 Non riesco anche a buttarli giù Ancora l'aiuto di Cristo Dovrò ricordare un altro mani testo Non credo Eh i sistemi Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Ce ne ha dati due di fila Uno di seguito all'altro Mi sembrava giusto che Per lo chassis Dovremmo aspettare ancora un po' Va bene Va bene Mi sembrava giusto Sì